The Great, our origins. Nascono i primi eventi in streaming con artisti internazionali nei siti archeologici e di interesse culturale della nostra terra. Il primo appuntamento si terrà il 30 di settembre 2020. In una location esclusiva, tenuta all'oscuro per circa 30 anni, faremo in modo che ritorni in tutto il suo splendore. Il rione Terra. Official Exhibition Janis Luis Rodriguez Burso Rayleigh Art Director dell'evento Gianluca Battimelli Ricorda le tue origini. Guarda il futuro. Streaming sui canali Facebook, Instagram, YouTube, Twitch.